io se fossi stato single quella piccolina lei tutta trasparente quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale e questa è la frase che sta facendo rischiare l'eliminazione a Salvo Veneziano all'interno del GF VIP 4 ormai il GF Gate è scoppiato e vede sotto accusa appunto solo Salvo Veneziano il web è contro il GFino tanto da chiedere al programma la sua squalifica in particolare oggi a mattino 5 vediamo Federica Panicucci profondamente sconvolta per le frasi utilizzate da Salvo su Elisa De Panicis la conduttrice si ribella e spera che Alfonso Signorini faccia di tutto per mettere in atto un provvedimento contro Salvo a me questo video fa orrore trovo terribile quello che Salvo dice gli altri che ridono lo trovo disgustoso una cosa del genere intollerabile dichiara la Panicucci le dichiarazioni di quest'ultimo sull'influencer Elisa sono per la conduttrice di mattino 5 davvero intollerabili i presenti in studio appoggiano il suo sfogo se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un like di supporto iscrivetevi al canale